La prima parte di questo match al primo tempo direttamente sotto e anticipato in premessa ma anche e soprattutto per il accordo di gioco ultimamente. La forza molto profonda, c'è movimenti in aree, anche qualche trattenuta, il pelone su un secondo palo, boccacini e la sponda resta, le pallone con le reti. La caccia di punizione alla palla che resta lì, sembra avere i tempi, lo perde, la riga, attenzione il corticello, la riga è sotto la quarta ruota, vantaggio del corticello. La caccia di punizione alla parte di questo match al primo tempo direttamente sotto la quarta ruota, vantaggio del corticello, vantaggio del corticello, vantaggio del corticello, vantaggio del corticello, vantaggio del corticello. Calcio di punizione all'albumimento del corticello. Calcio, non c'è la punizione alla caprice del corticello, vantaggio del corticello, vantaggio del corticello. Calcio, palla che scende, bravo dai dai dai! Sì, è stato un po' di porticella, la balla, più secondo qua, il bocacino, la gronda, dai che buono, salta, brutti sopra la torta, il capo è un po' di porticella vicino alla porta, porticella che può calciare, la balla che arriva, ah! 1-0, non so dove gli ho, il capo è un po' di porticella, un po' di testa in città, guarda Castelli, l'unico dell'aria, calcio da Mancini, rischia di perdere un pessimo pallone, Castelli vinceva, prova a ripartire corticella, campo aperto, attenzione a corticella, transizione, Sì, prova a calciare Leonardi!